E siamo quindi arrivati alla grande sfida della serata 75 chili, 3 round a 3 minuti, fight code rules Con un professional record di 58 incontri, 47 vinti, 25 per KO, 9 persi ed un pareggiato Nel 2008 finalista al K1 World Marks Nel 2011 finalista a Did Showtime Fast and Furious Fighting Out of the Blue Corner Rappresenta l'Ucraina Ladies and gentlemen, please welcome Artur Kishenko Rappresenta l'Ucraina La regione del mondo WKF, WKN, Waco Pro 138 incontri, 97 vittorie, 47 K.O. Rappresenta l'Italia e rappresenta Torino Roberto D'Hummer Gokko Rappresenta l'Ucraina 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 Gira! Nei! Vai! Gira! Gira Robi! Gira! Gira Robi! Gira sull'altra destra! Gira sull'altra destra! Gira sull'altra destra! Grazie a tutti voi! Vai Robi! Vai! Vai! Negli liberi! Roby sta andando bene. Gira! 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 Non stare fermo! Gira a destra! Serena di braccia! Vai! Vai! Vedi! 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 Vai! Vai! La serena di braccia! La serena! La serena vai tu! No, buddy! Vai! 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 Vai tu! Non aspettare, Roby! Gira, Roby! Gira! 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 E di qua! Gira! Gira! Guarda calcia! Vai! Vai! Vai tu! 2 per 2! 2 per 2! Vai! Gira! Gira sempre! 6e Mickey! Volte sotto! Vai! quadraticilito! 2-7s! Vieni a secondi, Roby! Close it! It's your face, Stephie! Close it there! 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 RRRR! Go to you UECALCAL.. GUETE nu entratto! Grazie a tutti! Second round. Sottotitoli e Sottotitoli. Grazie a tutti! 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 Ci vediamo a...